. US Open, rubli fa fuori Dimitrov. Out anche Verdic, ok del potro. Continuano a cadere teste di serie agli US Open edizione 2017, quarto slam dell'anno in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Mead Office. . Dopo le eliminazioni eccellenti di ieri, di Aleksandr Verebe e Jovi Frient Zonga, è stato oggi il turno del bulgaro Grigor Dimitrov, sconfitto in 3-7 dal giovane russo Andrei Rublev. . 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 I ostacoli sulla strada verso la semifinale di Rafa Nadal. Estromesso dal torneo anche Thomas Berdic, numero 15 del tabellone. Dopo essere stato avanti di un set contro l'Ucraina Aleksandr Dolgopolon, il cieco si è fatto rimontare e travolgere, chiudendo l'incontro in maniera ingloriosa, 6-1 al quarto. Chi invece non sbaglia è Juan Martin del Potro, l'argentino regola in tre set lo spagnolo Menendez Maceras, approdando così al terzo turno. Tra le teste di serie, avanzano il francese Adrian Mannarino, numero 30, che si sbarazza agevolmente dell'americano Bjorn Fratangelo, e il regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut, in serie positiva dopo il successo nell'Hat 250 di Winston-Salem, che ha superato in tre set il giamaicano naturalizzato tedesco Dustin Brown. Travaglia, Troiki 6765706. Dolgopolon, Berdic, 15, 366176562. Gnzumur, Stebe 46646061. Rublen, Dimitrov, 7, 7576363. . Iazziri, Milman 1667116. Bautista Agut, 11, Browns 163763. Menendez Maceras, Del Potro, 24, 2636673. Mannarino, 30, Fratangelo 636746162. . .